Ciao e benvenuti da Marco e alla sua band, siamo in diretta, un po' di musica latina, dedicata a tutte le ragazze di Genova, della Liguria, della Spezia, di Savona, della Lugigiana, della Lugigiana, pensando in te, pensando a te, pensando a te. Questa è una baciata. Buonasera, buon 3 giugno, buon apertura a tutta l'Italia. Il Taglio Unita, siamo tornati, per voi, per non dimenticare. Buonasera. 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 Grazie a tutti Ciao Ivan, buona serata Grazie, risobietta, grazie Sono presenti gli amici mancati I balli di gruppo Questo è un cia 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Ciao Edoardo Un saluto a tutti coloro che stanno ascoltando e guardando Grazie a tutti Ciao Roby, ma è un cia 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 Elisa, ciao, grazie Elisa Dedicato a tutto il popolo di Casola Ludigiana Grazie a tutti Grazie a tutti E tutto 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 Tranquillo a tutti Tranquillo a Roby Tranquillo a Roby Grazie a tutti 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 Tutti Grazie a 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 tutti